Grazie mille, buongiorno bambine, buongiorno bambini, buongiorno a voi e buongiorno agli insegnanti, ovviamente a tutti gli ospiti, anche a distanza perché ci stanno seguendo a distanza, sapete c'è tanta gente in tutta Italia che vi sta guardando in questo momento quindi dopo c'è qualcuno che è spaventato giustamente. Io mi chiamo Maria Rosaria Brunetti come appunto è stato detto insieme a Maria Ludovica Gros, dal primo giorno abbiamo lavorato tanto su questo progetto, vi dico brevemente da cosa nasce questa idea, anche noi siamo stati ovviamente piccoli, noi ci troviamo in Campania, io sono di origini calabresi, quindi come voi appartengo alla punta dello stivale, è un'idea che nasce dai valori, siamo convinti che lavorare sulle nuove generazioni, che è uno degli obiettivi più importanti della Fondazione Merita, rappresenti un elemento fondamentale per il futuro del nostro Paese, quindi lavoreremo e continueremo a lavorare sulle nuove generazioni per far sì che il Sud riesca finalmente già insomma da un contributo importante al nostro Paese però migliori sempre di più e soprattutto si creino le condizioni per poi per continuare a rimanere nel nostro territorio che è meraviglioso. Io dico semplicemente due cose perché siamo, sono molto curiosa e anche emozionata di ascoltare voi che siete i veri protagonisti di questo campionato dei valori, i valori sono stati citati prima, la solidarietà, l'inclusione, la parità di genere, il lavoro, la sostenibilità che sembra un termine difficile però ormai siete diventati bravissimi, l'eguaglianza dei diritti e la legalità. Questi sono i valori che noi abbiamo utilizzato per portare avanti questo progetto. È stato già detto, insieme a voi ci sono altri amici di cinque regioni, Campania, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia che ci stanno seguendo a distanza, che hanno partecipato al campionato dei valori, quindi più di 200 bambini, 10 esperti a rotazione che hanno seguito le classi, quindi sono numeri importanti per il primo anno di sperimentazione, abbiamo raccolto tante informazioni anche dove dobbiamo migliorare perché come è stato detto prima ammettere gli errori e dire dove si può migliorare è fondamentale. Chiudo velocemente perché lo spazio deve essere vostro con dei ringraziamenti, non cito tutti i protagonisti perché non abbiamo tempo a disposizione ma ringrazio di cuore tutti coloro i quali hanno reso possibile la realizzazione di questo sogno perché è stato un sogno per noi realizzare questo progetto come merita. Ringrazio l'Università Federico II che ha deciso di ospitare la prima tappa e siamo convinti che ce ne saranno, non convinti, sicuramente ci sarà un futuro glorioso per questo progetto. Ringrazio le aziende, ringrazio gli amici che hanno contribuito a realizzare questo progetto, ringrazio Muse, ringrazio Griff, ringrazio Maura, grande colonna del nostro progetto e cedo la parola a Maria Ludovica perché dopo ci siete voi, vi aspettiamo.